Si chiama Progetto Rio 2016, voluto dal CT Mauro Berruto e supportato dalla Federazione con l'appoggio dei club. Una serie di collegiali per capire chi tra i giovani di oggi potrà essere protagonista olimpico di domani. È un progetto di identificazione di talenti che hanno due caratteristiche. La prima è quella di essere congruenti per età a un progetto quadriennale, quindi immaginando che loro possano essere nel loro momento migliore fra quattro anni. E il secondo è di non essere mai stati convocati con la Nazionale Signores, quindi tutti i ragazzi con i quali io non ho ancora lavorato personalmente e ovviamente voglio incontrare e avere in palestra e valutare con i miei occhi. Prima tappa Roma, acqua acetuosa in 27, le prossime a gennaio e a marzo per capire chi sarà utilizzato fin da subito. È evidente che noi useremo le manifestazioni che abbiamo a disposizione, quindi in questo caso soprattutto la World League, poi dopo la World League faremo una votazione sull'europeo, che ovviamente è una situazione molto difficile e molto importante, ma per dare continuità a questo progetto che non è fine a se stesso.